Vittorio Bendaud è intervenuto oggi al Festival Francescano 2014 in un incontro con il professor Salvatore Anatoli. Il tema è l'educazione alla felicità, o meglio ancora l'educazione alla felicità è il titolo del volume del professor Anatoli. Il tema di oggi era un passo del Coelet e del Cantico dei Cantici. Il tema è questa ricerca della felicità da parte dell'uomo nelle varie religioni, nelle varie espressioni religiose, tra cui ovviamente anche l'espressione ebraica. Che cos'è per un ebreo la ricerca della felicità? La ricerca della felicità è la ricerca del vivere bene. Il vivere bene si realizza assieme agli altri, per cui di un rapporto buono, giusto con l'altro di persona e ovviamente questo significa anche un buon rapporto con Dio. Mi viene in mente, visto che tra pochi giorni è il giorno di Kippur, che nella tradizione ebraica, quando si chiede scusa a Dio per le colpe commesse durante l'anno, le colpe commesse verso Dio, quindi non aver pregato, aver avuto un rapporto scostante con la preghiera, l'osservanza del sabato, vengono condonate, se c'è contrizione vera, dalla santità del giorno di Kippur. Però le colpe dell'uomo verso il proprio prossimo non le può perdonare nemmeno Dio, perché bisogna chiedere scusa al proprio prossimo. Per cui quando diciamo che bisogna radicarsi per trovare la felicità con un buon rapporto con l'altro di persona, è qualcosa che è profondamente serio, perché è difficile. Eppure la felicità è data, come dice il professor Natoli, quando uno si è speso per qualcosa, l'ha ottenuta e ha un premio. Il fatto di aver agito bene perché bisognava agire bene, penso sia un grande insegnamento di cui abbiamo molto bisogno e questo è un passo sostanziale verso la felicità. Il tema del festival di quest'anno è in particolare l'interpretazione di Francesco della felicità, di San Francesco d'Assisi, quindi la Letizia. Ecco, dal suo punto di vista, dalla sua prospettiva, la Letizia coincide con questa ricerca di felicità? Io dovrei essere più ferrato delle fonti francescane, cosa che invece non sono. Tuttavia, credo che si possa fare questo. Francesco scrive una preziosissima testimonianza di preghiera, che è anche una testimonianza del primo italiano, che è il canticum creaturarum, cui è altissimo, onnipotente, buon signore. Bene, nella tradizione ebraica c'è un canto liturgico, un poema liturgico, più antico, che si chiama Perek Shira, letteralmente il capitolo del canto che è stato tra l'altro tradotto da poco in italiano per i tipi di Belforte, in cui si fanno che ogni essere creato, per cui gli animali, le piante, i vari tipi di animali, fino all'essere umano danno lode a Dio. E sapersi in compagnia del resto del creato e quindi dell'essere umano non è solo, ancorché la relazione col creato sia spesso difficoltosa. Credo che sia un passo per ridimensionarsi e avere un approccio alla letizia, nel senso che riconoscersi creature con altre creature sia un buon passo per avere un po' di letizia. Penso che questo sia convergente, a meno per quel poco che so che per il sereo di Francesco.